Evangelio secondo Matteo, capitolo 6, dal verso 5. Dio sia lodato. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoge e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, ma tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza e la gloria in eterno. Amen. Perché se voi perdonate gli uomini agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi, ma se voi non perdonate gli uomini neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Chiniamo i nostri capi insieme. Padre, grazie con tutto il cuore stasera perché ci troviamo dinnanzi a te, dinnanzi alla tua presenza, Signore, e con riverenza, con timore, con umiltà vogliamo accostarci con tutto il nostro cuore per udire, accogliere la tua parola nei nostri cuori. Ci affidiamo a te, oh Signore, e ti preghiamo di raggiungere in particolar modo stasera tutti coloro che hanno qualche particolare necessità spirituale, oh Signore, sono giunti qui per ottenere una risposta da te. Raggiungi ogni anima, noi ti ringraziamo nel nome di Gesù benedetto in eterno. Amen. Gloria al Signore. Dio sia lodato. Io non so perché, ma diciamo in questo pomeriggio, negli ultimi momenti, prima di venire al culto, il Signore mi ha messo davanti questo testo, anche se mi ero orientato altrove e quindi probabilmente il Signore vuole dirci qualcosa, apriamo i nostri cuori insieme e diciamo Signore parla, parla al mio cuore. Amen. Gloria al Signore. E quindi c'è un versetto che spesso citiamo e che mi è stato messo dinnanzi e su questo versetto vogliamo meditare. Naturalmente sono istruzioni che Gesù dà circa la preghiera ed è di preghiera che voglio parlare questa sera. Rileggo dal versetto 5 fino al versetto 6. Quando pregate non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoge e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Ma io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Mi sono soffermato su questo ma tu, quando preghi, entra. È una parola che il Signore rivolge personalmente a ciascuno di noi. È una parola che il Signore rivolge ai Suoi discepoli. È una parola che rivolge agli intimi, ecco. È una parola che stasera rivolge a me e rivolge a te. Ma tu. Si rivolge quindi a ciascuno di noi. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa in pubblico. Già, in questo versetto ci sarebbe un po' da fermarsi. Intanto, ma tu. Come per dire, gli altri sono una cosa, tu sei un'altra cosa. Con gli altri c'è un rapporto, con te c'è un altro rapporto. Gli altri sbagliano perché non mi conoscono, non sanno neanche quello che fanno, come si comportano, ma tu, quando ti accosti a me, sappi come ti devi avvicinare a me. Ma tu fa una distinzione, quindi tra coloro che non conoscono il Signore e coloro che invece già conoscono il Signore. C'è un rapporto diverso. Ma tu, quando preghi, tu, quando ti presenti dinnanzi al Signore, dice qui la parola entra nella tua cameretta. Attenzione, sta dicendo la tua cameretta. E potrebbe lasciare intendere questa espressione, la tua cameretta, che ciascuno di noi abbia una cameretta e non sempre corrisponde a verità. Soprattutto ai tempi in cui Gesù parla e si fa riferimento con queste parole. A quei tempi probabilmente in una sola camera c'era tutta la famiglia, famiglia compresi i nonni e forse nipoti e probabilmente anche qualche animale domestico presente in casa a quel tempo. E quindi è difficile comprendere quando dice entra nella tua cameretta. E noi vogliamo soffermarci un attimino a considerare su queste affermazioni che sono particolari, ma non dobbiamo correre, saltare oltre, ci dobbiamo fermare, la parola va meditata, va investigata, la parola va gustata e noi la vogliamo gustare con tutto il nostro cuore. Dove dice anche chiudi la porta, c'è una porta, questa, dinnanzi a questa cameretta. Ancora peggio, facendo riferimento agli usi, i costumi di quel tempo, se eventualmente in qualche casa vi era un'altra cameretta, allora o era separata probabilmente da qualche oggetto materiale o comunque non vi erano porte, e dà quasi per scontato che ognuno abbia una cameretta privata, una porta privata, e lì dice prega il padre tuo. C'è una cameretta privata, c'è una porta privata, c'è anche un padre che ci appartiene, un padre privato, un padre nostro, il padre tuo, il padre tuo che vede lì nel segreto, ed è un padre che ricompensa pubblicamente. Allora, vediamo di lasciarci, come dire, guidare, presi per mano, spiritualmente parlando, proprio dal Signore, dallo Spirito Santo, per entrare in questo semplice versetto della parola del Signore? Beh, è ovvio. Innanzitutto c'è un rapporto esclusivo con il Signore, eravamo estranei, eravamo nemici, eravamo un po' come i farisei che li definisce ipocriti, eravamo ipocriti dal punto di vista anche spirituale, ma oggi siamo figli di Dio, oggi apparteniamo al popolo di Dio, ma tu quindi? E allora già vogliamo dire insieme grazie Signore per questo nuovo rapporto esclusivo che abbiamo con te. Dio non è lontano, Dio non è sconosciuto, non è un estraneo, non è rimasto estraneo alla nostra vita, egli si è fatto conoscere nella nostra vita e ci ha presi dal nulla, ci ha presi dal fango, ci ha presi dal peccato, eravamo schiavi di un altro Signore, egli ci ha resi figli suoi, ci ha riscattati ad un prezzo altissimo, il prezzo della sua vita e ci ha acquistati, siamo suoi, di modo che egli possa stabilire con noi un rapporto nuovo e poter dire come in questo versetto, ma tu, gloria a Dio, grazie a Dio per questo rapporto nuovo di comunione intima e profonda con il Signore. Abbiamo il privilegio, essendo figli di Dio, di pregare il Signore, cioè di dialogare con Lui, di parlare con Lui, di presentarci dinnanzi alla sua presenza, egli che è santo e puro, egli ci concede del privilegio in Cristo Gesù per il sacrificio di Cristo, per i meriti di Cristo, di entrare nella sua presenza, per avere comunione con Lui. Preghiera non è soltanto chiedere a Dio, fare domande a Dio, ma preghiera è stare al cospetto del Signore, godere della sua presenza, vedere la sua faccia e quindi godere di comunione con Lui, ma tu quando entri, quando preghi, entra nella tua cameretta. Quando preghiamo dobbiamo entrare quindi in un luogo, un luogo che è un luogo privato, è un luogo segreto, è un luogo che appartiene a me, è un luogo che appartiene a te, che non appartiene a tutti. sta parlando di una cameretta, sta parlando di un luogo segreto, un luogo addirittura che può essere chiuso con una porta, quindi ci sta dicendo di entrare in un luogo segreto, privato, un luogo personale, un luogo di meditazione, di preghiera. La cameretta di cui parla qui Gesù è certamente un luogo molto esclusivo, ciò vuol dire che dobbiamo avere un luogo dove incontrarci privatamente, personalmente, intimamente con il Signore. E stabilire anche il tempo di questo incontro, chiudere anche la porta di questo luogo, di modo che in questo luogo non vi siano distrazioni, di modo che si possa tenere fuori da questo luogo, distrazioni di ogni tipo, questo luogo può essere un luogo fisico, questo luogo può essere un luogo fisico, quindi una cameretta nella quale isolarci e da soli spandere l'anima nostra dinnanzi al Signore, ma lasciatemi dire che questo luogo lo vedo molto più indicato in un luogo veramente molto ristretto, molto segreto, molto personale, molto intimo, questo luogo dove dobbiamo e possiamo incontrare personalmente il Signore è il nostro cuore, il mio ed il tuo cuore. È nel cuore che avviene l'incontro con il Signore. È nel nostro cuore che realizziamo quella comunione intima e profonda con il Signore Gesù. È il nostro cuore che ci appartiene intimamente e che lo vogliamo aprire e lo vogliamo aprire soltanto dinnanzi al Signore. Colui che ha pagato un caro prezzo per avere il nostro cuore, per entrare nel nostro cuore, per benedire e riempire il nostro cuore, per fare del bene al nostro cuore, per ascoltare i pensieri del cuore, per ascoltare i sentimenti del cuore. Il cuore è il luogo quindi dei sentimenti, è il luogo delle emozioni, è il luogo dove avvengono le cose più intime della nostra vita e a volte avvengono quelle cose che non riusciamo e non possiamo spiegare agli altri, ma le viviamo profondamente nel nostro cuore, sia in negativo, sia in positivo, sia il dolore, sia la gioia, quindi sia la consolazione o altro, o i timori, le paure, le viviamo nel cuore. Entra nella tua cameretta. Ci stai invitando quindi ad un incontro personale, ma segreto, privato, di meditazione, che è la nostra cameretta, dalla quale dobbiamo tenere fuori ogni tipo di distrazione, perché ella è il nostro cuore. E il padre tuo che vede nel segreto è nel segreto. Io leggo anche nella parola del Signore che egli conosce i pensieri del nostro cuore, conosce i segreti del nostro cuore. È il luogo dove Gesù entra, è il luogo dove Gesù penetra. Innanzitutto perché lo conosce, lo conosce bene. Più volte leggiamo di Gesù quando si trova dinnanzi ai classici farisei, dottori della legge, scribi, eccetera, conosciuti i pensieri del loro cuore. Oppure raggiungendo quei discepoli sulla via di Emmaus, che sono questi ragionamenti che fate fra di voi? Dio conosce perfettamente i pensieri e i segreti del cuore. È il cuore il luogo della comunione intima e segreta, spirituale, con il nostro Dio. Ci invita quindi in realtà non a pensare ad un luogo fisico che possa divenire un luogo sacro e molti stanno fraintendendo certi insegnamenti delle scritture e stanno rendendo dei luoghi sacri anche nell'ambiente evangelico, quando si parla di camera sacra o di camera di preghiera o camera di guerra, come se fosse il luogo speciale. Ma Dio si riferisce all'intimità del nostro cuore. Egli ci sta invitando ad avere una comunione, ripeto, intima e profonda con il nostro Dio. Gloria al Signore. Parlando del suo popolo, parlando della Chiesa, ho citato qualche settimana fa questo versetto, mi è ritornato alla memoria in Esaia 26, dove dice, vai o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Lo abbiamo applicato l'altra volta, se ricordate, alla Chiesa che entra nella presenza del Signore, mentre la grande tribolazione si scaglierà sulla terra. Vai o mio popolo, entra nelle tue camere, parla di un luogo, parla di un palazzo, ed è il palazzo reale, il palazzo del re, il palazzo, la casa del Padre nostro celeste. Nella casa del Padre mio ci sono molte timore, molte stanze, e io vado davanti a voi, disse Gesù, vado a preparare un luogo, quando sarà pronto tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. È il luogo della presenza di Gesù, vai o popolo mio, entra nelle tue camere, chiudi le porte dietro a te, nasconditi per un istante, trova rifugio per un istante finché non passi l'indignazione di Dio sul mondo e su quanti sono stati e sono ribelli alla parola e alla volontà del Signore. Ma notate questo desiderio, entra nelle tue camere, addirittura a far riferimento al cielo, far riferimento al luogo santissimo, far riferimento alla presenza del Signore. Ma tu quando preghi entra nella tua cameretta con una certezza che quella cameretta privata, quella cameretta che è la tua cameretta, quella cameretta che è chiusa, dove nessun altro può entrare, nessun altro può entrare, dove ci sei solo tu, entra nella tua cameretta e se questa cameretta è il tuo cuore il Signore ti assicura una cosa importante, ti assicura la sua presenza. Non c'è nessun altro ma il Signore sarà presente insieme a te in quel luogo di adorazione e di preghiera, il luogo della comunione con il Signore è in quel luogo segreto che il Padre ti attende e quel luogo è quell'incontro, quell'appuntamento segreto che il Padre attende con te. Ora questo luogo lo definisco stasera per quello che percepisco da parte del Signore spiritualmente come il nostro cuore ma questo luogo d'incontro non necessariamente deve avvenire in una stanza fisicamente privata ma può avvenire in un luogo affollatissimo in mezzo a tante altre persone mentre altri sono distratti e nella loro camera e nel loro cuore nella loro mente vi sono mille distrazioni il tuo cuore invece si può chiudere in una comunione privata con il Signore e straordinariamente a differenza di altri che ti circondano realizzi la presenza e la comunione col Signore nella tua vita, nel tuo cuore o forse puoi trovarti anche nella prova più difficile della tua vita in mezzo a guerre e confusioni dal punto di vista materiale in mezzo a cattive parole, a cattivi sentimenti di altre, situazioni veramente difficili ma quando ti metti in preghiera dinnanzi al Signore chiudi il tuo cuore ad ogni altro pensiero e distrazione esterna perché proprio in mezzo a quella valle come accennavamo all'inizio tu puoi avere un incontro personale privato con il giglio della valle e non vedere i problemi attorno a te e non essere preoccupato e agitato per le situazioni attorno ma rimanere ammirato e meravigliato nell'osservare Cristo Gesù il Signore e come trovarti dinnanzi alla sua divina e gloriosa presenza e realizzare in quel momento il sacrificio di Cristo per la tua vita, il valore che gli ha dato all'anima tua e in quel luogo segreto innanzitutto che il Padre ci attende. Mi piace questa immagine di un Padre che desidera avere degli appuntamenti privati, un Padre che ha tanti figli. Non può trattare situazioni personali, private, intime, profonde di un figlio in presenza di tutti gli altri figli? Vi sarebbe confusione, non vi sarebbe comprensione, verrebbe a mancare quel rapporto intimo, profondo, personale con il proprio Padre. Il nostro Padre Celeste ha il piacere, ha il privilegio di invitarci a degli appuntamenti privati. Quando decidiamo di avere un appuntamento con il nostro Padre Celeste, dico quando decidiamo di avere un appuntamento, quando abbiamo un bisogno e abbiamo bisogno di papà tutto per noi, abbiamo bisogno di un'attenzione particolare, di una parola particolare, vogliamo esprimere un sentimento particolare del nostro cuore, entriamo nel luogo segreto, entriamo in comunione con il nostro Padre Celeste e gli sarà presente all'appuntamento. Non sarà troppo impegnato altrove, sarà con te in quell'occasione. Mentre tu apri la porta del tuo cuore soltanto a lui, chiudendola tutto il resto, il Padre addirittura ti attende in quel luogo segreto. Come disse a Pietro, ti precedo in Galilea, ci vedremo in Galilea, andrò davanti a te, egli ci precede ad appuntamenti straordinari e meravigliosi con la sua persona. E allora, ripeto, è in quel luogo segreto che il Padre ti attende e sarà lì presente con assoluta certezza. Tutte le volte che entri nel tuo luogo segreto, nella tua camera segreta, egli sarà certamente presente. Gloria al Signore. Ma accostiamoci riverenti, accostiamoci a lui con rispetto, accostiamoci a lui veramente con cuore ben disposto, accostiamoci con umiltà. Ricordate quando Mosè vide quella visione straordinaria dinanzi a sé nel deserto, quel pruno che ardeva e disse voglio andare a vedere questa visione particolare, si avvicinò e quando arrivò in quel luogo, ecco proprio da quel fuoco, da quel pruno che ardeva, venne fuori una voce e la prima cosa che disse a Mosè di togliersi i calzari dai piedi, perché il luogo dove tu ti trovi è un luogo sacro, perché è il luogo della presenza del Signore. E la presenza del Signore non la incontriamo in un luogo fisico, puoi anche chiuderti in un bunker isolato, come dire al cento per cento, pensando di trovare la presenza del Signore ma lì non la trovi, non è quella la cameretta. Ma dovunque ti trovi, se il tuo cuore si apre alla presenza di Dio, egli sarà lì presente. Gloria al Signore. Accostiamoci quindi con umiltà, ma accostiamoci anche con fiducia, perché siamo nella presenza del Dio che è compassionevole, misericordioso e benigno. Alleluia. Accostiamoci con fiducia che egli non caccia fuori colui che si presenta al suo cospetto, egli accoglie tutti coloro che vanno a lui e andiamo con fiducia sapendo anche che egli è l'onnipotente il Dio. È misericordioso, lento all'ira, di grande benignità, ma egli è onnipotente, con la certezza quindi che egli può risolvere ogni problema. Cioè ogni qualvolta entri nella cameretta segreta con un appuntamento col Padre Celeste, devi entrare con la certezza che uscirai con la risposta del Signore. È quello il luogo del conforto al cuore. È quello il luogo delle soluzioni. È quello il luogo delle risposte e non delle risposte umane ma delle risposte di Dio alla nostra preghiera. Ecco perché siamo invitati a presentarci con tutto il cuore e a presentarci in questo rapporto esclusivo, intimo, di comunione con Lui e quello, ripeto, è il luogo del conforto, della consolazione al cuore. È del luogo delle soluzioni e delle risposte. E abbiamo meditato altre volte sul fatto che da questi luoghi il nemico cercherà di fare tutto ciò che è possibile per tenerti lontano, per distrarti in qualche modo, per disturbarti in qualche modo, per presentarti qualcosa che sembra più urgente, più necessaria di quel luogo. Ma sappi che non c'è un'altra cosa più importante della comunione personale con il Signore. Gloria a Dio. È il luogo dove Egli può risolvere ogni problema e il luogo dove Egli può sciogliere ogni nodo che rende difficile il cammino della vita dell'uomo, della vita del cristiano. Ma parlando di questo luogo, di cameretta, andiamo alla camera fisica, ecco, Dio non vuole escludere o condannare la preghiera pubblica. Non sta dicendo il Signore non pregate in pubblico, dovete pregare soltanto in privato. Egli approva la preghiera pubblica. Tant'è che dice, cito un versetto per tutti, che sono un'infinità di versetti che fanno riferimento alla preghiera nell'assemblea, alla preghiera pubblica, ma un versetto solo dove dice dove due o tre sono riuniti nel mio nome, ecco, io sono presente in mezzo a loro. E non dice nella cameretta privata, ma dovunque due o tre sono riuniti. Possono essere in automobile, possono essere in barca in mezzo al mare, possono essere in un alto monte, sotto terra, dovunque. Due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Gloria a Dio. Ma una cosa è il rapporto comunitario, il rapporto di tanti insieme, altra cosa è il bisogno che ciascuno di noi ha di incontrarsi privatamente con il Signore per esternare i sentimenti del cuore, per aprire il cuore dinanzi al Signore. Quindi non sta condannando la preghiera pubblica, la prova, ma ti sta invitando ad una comunione speciale con il Padre. Ma tu, ma tu, fa riferimento a te, quando entri nella tua cameretta, ti sta invitando il Signore ad una comunione personale, speciale con il Padre Celeste, colui che è invisibile. Non lo vedi, non può essere visto con gli occhi umani, con gli occhi materiali, ma che lo puoi realizzare, lo puoi sentire nel cuore, lo puoi vedere con gli occhi della fede, lo puoi vedere con gli occhi del cuore. Non lo vediamo quando lo adoriamo, ma ne sentiamo la sua presenza. Non lo vediamo, ma il nostro cuore gioisce, il nostro cuore si rallegra, il nostro cuore esulta, il nostro cuore si commuove, il nostro cuore piange anche di gioia dinanzi alla presenza del Signore. Non lo vedi, ma senti la sua presenza. Nella cameretta hai incontrato il tuo Dio. Gloria al Signore. Dio conosce meglio di noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno. Quando entri nella tua cameretta, chiudi la tua porta, chiudi la tua porta, a tutto ciò che può creare distrazione, ma quella porta deve essere aperta soltanto a colui che dice in Apocalisse, ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Gloria a Dio. Sta parlando proprio della porta del cuore, ecco, quella porta deve essere chiusa, ma non a Gesù. Deve essere chiusa ad altro, deve essere chiusa al mondo, deve essere chiusa al peccato, deve essere chiusa alla distrazione, deve essere chiusa quindi all'appetito della carne, all'appetito della mondanità, ma quella porta deve aprirsi al tocco della mano del Signore, all'invito di Gesù, perché egli desidera un incontro privato. Questo incontro privato avviene attorno ad una tavola che parla di comunione, ma parla di soddisfazione. Io cenerò con te, tu con me. Parla di ristoro, dove l'anima nostra si sazia, dove l'anima nostra si disseta, alla presenza del Signore, dove non esiste nessun altro, ma solo tu e il Signore, io e il Signore. Come avvenne in casa di Marta e Maria, ricordate, Marta è indaffarata, di qua e di là, Maria dimentica ogni cosa, persino le faccende di casa, si mette ai piedi del Signore, sente il bisogno di avere comunione con Gesù. Io non so se tu senti questa necessità nella tua vita, o ti accontenti, o ti accontenti semplicemente di incontrare il Signore pubblicamente, di acclamarlo insieme ad altri e forse non l'hai mai visto da vicino, mai incontrato personalmente. Penso che so a Mosè, quando si trovava sul monte per ricevere la parola, la legge di Dio, passarono, dice la scrittura, 40 giorni e 40 notti dove egli non prese cibo, rimanere digiuni per 40 giorni e 40 notti, sfido chiunque, di fronte a che so, a qualsiasi evento straordinario, particolare, che possa essere, che ne so, un mondiale di calcio, qual è la cosa che può interessare di più a un uomo da tenerlo inchiodato, 40 giorni e 40 notti senza prendere cibo, non può esistere un altro luogo se non nella presenza del Signore. Dove Mosè era a tavola con l'iddio onnipotente, riceveva la parola di Dio che riempiva il suo cuore e l'anima sua, tant'è che quando rientrò in mezzo al popolo il suo volto era raggiante. Gli israeliti non potevano guardarlo in viso, dovette mettersi un velo d'innanzi, perché il suo volto era divenuto luminoso, egli è stato nella presenza del Signore. Che cosa ci interessa di più? Vedere Gesù da lontano, stare comunque insieme a gente che conosce il Signore o incontrarlo personalmente? Stare con Lui e godere di comunione profonda con il Signore. Gesù stasera ti sta invitando ad una comunione speciale con Lui, ma tu entra nella tua cameretta, e chiudi la tua porta tutto il resto, ma prega il Padre tuo che è nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Altra meraviglia che viene da questo testo è che Egli è il Padre tuo. Questa è la chiave di comprensione, di soluzione. Dio deve divenire Padre tuo. E noi leggiamo in Giovanni che a tutti quelli che lo hanno ricevuto, che hanno ricevuto Gesù, hanno ottenuto il diritto di diventare figli di Dio. Gloria al Signore. E allora lì nel segreto c'è il Padre tuo, gloria a Dio. E allora Egli conosce meglio di noi stessi il vero bisogno dell'anima nostra. Quando entriamo nella cameretta c'è il Padre che vede nel segreto. C'è il Padre che vede nel segreto. Il nostro testo non dice che il Padre nel segreto sente, è vero, egli sente pure, ma dice qui che il Padre nel segreto vede, basta uno sguardo del Signore, che egli vede il nostro cuore, l'anima nostra, lo spirito nostro e vede i segreti, vede gli stati d'animo della nostra vita ed Egli conosce meglio di noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno. Quando andiamo a sottoporci ad un attacco, un attacco petto, un esame particolare, noi non sappiamo cosa c'è. Ma quella macchina riesce a vedere, riesce a vedere, dove noi non riusciamo a capire a vedere. Immaginate trovarsi nella presenza di Dio che vede e conosce perfettamente ogni cosa, chiaramente colui che ci ha creati. Penso di entrare in quel luogo con un bisogno, con una necessità, ma il Padre che vede, vede la vera necessità dell'anima mia e forse non risponde alla mia preghiera, ma mi esaudisce secondo il bisogno che l'anima mia ha in quel momento. Gloria a Dio. Ripeto, Dio conosce meglio di noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno. Egli ha ben presente dinanzi a sé ogni dettaglio della tua vita, ha ben presente dinanzi a sé ogni prova, ogni stanchezza, ogni sospiro, ciò che ci è sconosciuto ed inatteso. Dio lo conosce, conosce i raggi del sole che allietano il nostro cammino, ma conosce anche le nuvole minacciose che si addensano sopra di noi e che preoccupano la nostra vita, che incombono su di noi. Dio conosce ogni cosa. Egli ode anche quando noi stessi facciamo previsioni negative del futuro, previsioni negative delle situazioni, previsioni negative della vita. Egli conosce anche, vede quando facciamo richieste sbagliate dinanzi a lui e quante preghiere sbagliate, richieste errate, presentiamo al Signore. Egli conosce ogni cosa. Si rallegra invece quando le preghiere, le richieste corrispondono alla sua volontà. Gioisce insieme a noi. Gloria a Dio. Sì, sicuramente Egli ci darà sempre qualcosa di meglio e di più adatto alla nostra vita e al nostro caso quando entriamo nella cameretta privata, quando con il nostro cuore ci mettiamo in comunione con Lui. Puoi chiudere adesso la porta del tuo cuore ad altre voci, a probabili giudizi di altri e dovunque ti trovi seduto, anche stasera, puoi chiudere la porta del tuo cuore ad altri e avere certezza di incontrarti con il Padre Celeste. Ed è come una fonte di acqua viva che sgorga nel tuo cuore e allieta, ristora, benedice l'anima tua. Infatti dice qui il nostro testo, ed Egli che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente, ti ricompenserà. Gloria a Dio. Grazie Signore. Se Egli nella sua volontà ritiene di non rimuovere, di non risolvere quella spina nella carne, ricordate di cui parla l'Apostolo Paolo, quella prova che ti fa soffrire, quella prova che ti distrugge dentro, nel cuore, allora se Egli, ripeto, nella sua volontà ritiene di non rimuovere, ma comunque in quel luogo, comunque in quel luogo, Egli manderà la sua parola per rafforzarti. Egli ti darà grazia di sopportare ogni difficoltà. C'è una qualche espressione nel Salmo 73, e il salmista è uno dei salmi di Asaf, il quale si scoraggia a un certo punto del suo cammino, della sua vita con il Signore. Perché probabilmente, come accade anche a noi, vediamo che spesso altri si comportano male, dicono di essere figli di Dio, però il modo come si comportano è errato, è sbagliato agli occhi di Dio e ci fa soffrire. E quindi parla degli empi, e parlando appunto degli empi, i prepotenti li definisce così, dice, li invidiavo, vedevo la prosperità dei malvaggi. Erano malvaggi eppure prosperavano. Perché in loro non ci sono dolori, dice, il loro corpo è sano, è ben nutrito, non sono tribolati come gli altri mortali, non sono colpiti come gli altri uomini, sbeffeggiano malvagiamente, anche Dio progettano di opprimere, alzano la bocca fino al cielo, e quindi parlano male delle cose di Dio, la loro lingua percorre la terra. E quindi il popolo, dice, si volge dalla loro parte, beve abbondantemente dalla loro sorgente. Com'è possibile che un uomo malvagio verso gli altri, verso Dio, venga seguito, venga onorato da tutti quanti gli altri? Com'è possibile se Dio sa ogni cosa? Com'è possibile se vi è conoscenza nell'Altissimo, dice qui? Andatevelo a leggere poi il Salmo 73. Com'è possibile? Sono empi eppure sempre tranquilli, accrescono le loro ricchezze. Allora io, in vano, ho purificato il mio cuore. Ho lavato le mie mani nell'innocenza, ma tutto questo non serve a nulla, se chi prospera è l'empio. Perché io sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto parlerò come loro, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli, Signore. Ma poi, dice, ho voluto riflettere. Ho voluto, e per comprendere questo, che cosa ho fatto? Dice, sono entrato nel santuario di Dio e quindi ho considerato la fine di costoro. E il salmista giunge a dire quasi inciampavano i miei piedi, poco mancò che i miei passi scivolassero nel vedere quello che accadeva finché non sono entrato nel tuo santuario, nella tua presenza quindi, nella cameretta segreta, finché non si è messo davanti al Signore. Perché è lì, davanti al Signore, che il Signore corregge anche i nostri pensieri negativi, corregge le nostre paure, le nostre ansie, i nostri dubbi anche su Lui, sulla sua fedeltà, sul suo amore, sulla sua potenza, le sue capacità. Per poco stavo scivolando, stavo cadendo, quasi inciampavano i miei piedi, finché non sono entrato nel santuario di Dio. Vedete il valore di entrare in comunione col Signore, in quella cameretta privata con il Signore, è lì che vogliamo entrare. Abbi quindi, fiducia che il tuo Padre Celeste verrà incontro al tuo bisogno particolare. Ma lasciami dire in conclusione pure che il tuo bisogno particolare in quel luogo, lascialo nelle sue mani, lascialo lì. Non uscire da quel luogo, lascialo lì nelle sue mani, lascialo lì. Questo atteggiamento di fede è forse il più alto, il più sublime, perché vedete la fede è ferma certezza di cose che ancora non si vedono. Questo attesta la parola di Dio quando dice la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Gloria a Dio. Lascia in quel luogo, soltanto in quel luogo, puoi trovare soluzione e risposta all'anima tua. Mi fermo qui. Ora vi voglio invitare insieme a me ad entrare in questo luogo. Lascia stare chi ti sta accanto. Chiudi la porta, chiudi la porta e incontrati con il Padre Celeste. Chiedi a Gesù stasera di farti sentire la certezza della sua presenza e la comunione con Lui.